ragazzi secondo voi una busta così da dove può arrivare siete liberissimi di esprimervi sotto nei commenti e un saluto da francesco di techoffers indovinate oggi cosa siamo qui siamo qui per un unboxing vediamo cosa arriva dalla cina con fulore arriva gearbest quel trattore vediamo cosa mi sono molto utile un hub usb 3 lo proverò lo proverò con calma vi dirò come mi sono trovato vediamo cosa c'è su interno 4 porte cavetto usb usb 3 a usb 3 e dopo c'è il hub sembra trasparente molto carino dire veramente sono curioso di provarlo a vedere le sue prestazioni vediamo come sarà quindi avete visto cosa c'è su interno logicamente vi lascio in descrizione diciamo che è una cosa molto utile sempre utile un hub niente abbiamo anche abbiamo una porta usb 3 poi abbiamo una micro usb e dopo abbiamo quattro porte usb 3 vediamo questo è tutto al momento francesco vi saluta e mi raccomando iscrivetevi al canale i tech offers su youtube seguiteci sul gruppo di telegram dove posterò le migliori offerte posterò anche delle configurazioni a computer e le offerte sui droni ho preso un mavic 2 e zoom e vedremo di realizzare dei video dedicati a lui e magari quando in quale ora riscontrerò problemi cercheremo di risolvere di fixarli sto valutando di creare una sorta di assistenza logicamente non condizionato di creare un'assistenza ai principali e droni consumer tipo dji phantom, dji mavic, lo zoom, il pro, i principali droni consumer in modo da caso di accidentali rotture che ci sia modo qua in italia di riparare il drone a delle cifre modiche di sanno questo qua è la mia intenzione spero prima o poi di riuscire a realizzarla rinnovo ancora il saluto in descrizione trovate il link di questo prodotto ci vediamo al prossimo video grazie 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 grazie